Un saluto dal dottor Palmas e oggi ti faccio vedere come si passa a non avere i denti fino a arrivare ad avere i denti. Io mi trovo qua in Moldavia all'istituto sviluppo ricerca bocca bionica e quello che ti mostro è uno di quei pazienti, uno di quei casi classici che ci ritroviamo davanti. Un paziente che arriva al nostro policlinico senza più i denti, ha avuto una perdita completa della dentatura sia nell'arcata superiore che nell'arcata inferiore. Questo è un classico stadio in cui non c'è più osso, l'osso si è completamente riassorbito, i denti sono in espulsione perché in questo caso il paziente aveva una condizione genetica, la parodontite, che lo rendeva più suscettibile all'attacco delle tossine batteriche. Quello che succede, l'organismo reagisce col sistema dell'infiammazione, un'infiammazione cronica che porta anno dopo anno a perdere poi l'osso e come se i denti venissero espulsi dal nostro organismo. Ci sono purtroppo ancora molti colleghi che fanno al mondo su pazienti che hanno la piorrea a ponti come questi. Nei protocolli internazionali si è visto che è meglio non avere ponti sopra radici naturali che sono intaccate dalla piorrea perché il cibo che ristagna qua sopra questi ponti non fa altro che peggiorare quello che è il microclima batterico. Io ti apro adesso la radiografia finale di una bocca bionica. Questi sono gli impianti dentali che sono stati installati all'interno della bocca dopo aver fatto le estrazioni. Una volta fatte le estrazioni abbiamo anche proceduto a regolarizzare l'osso. Seguendo il protocollo Malò si va a fare una riduzione dell'osso andando a fare una plastica per avere poi una protesi che sia in linea con quella che è il profilo poi di igiene della protesi. Tieni conto che queste protesi che verranno poi avvitate sopra avranno al loro interno delle barre di sostegno. Questa è una barra provvisoria, dovrà poi essere svitata e montata anche con questo impianto la nuova barra che reggerà i denti. Una volta che noi andiamo a posizionare all'interno della bocca questi denti, queste arcate che noi andiamo a posizionare sono dei manufatti protesici che sono avvitati sopra gli impianti dentali. Questi manufatti, questo è un design o che è solamente una prova in plastica dei denti definitivi, i denti definitivi sono fatti di tutt'altro materiale, zirconio, titanio, oro e composito. Però la logica è sempre la stessa, che vengono fissate, avvitate, quindi con delle viti passanti alla struttura che si avvitano sugli impianti dentali e a quel punto ci sarà una zona qua delicata verso la gengiva che sarà quella da dove essere igienizzata e pulita. Se queste protesi non sono fatte con un profilo convesso, il paziente li non riuscirà a pulire. E purtroppo, ti dico, ci sono molti colleghi nel mondo che non sanno fare questi tipi di protesi. Quindi se tu hai bisogno di questo tipo di riabilitazione, assicurati di metterti nelle mani di un'equipe che non solo dal punto di vista chirurgico sa eseguire l'atto, ma che ha un laboratorio che lo supporta, quindi che può utilizzare materiali che sono adeguati e durevoli nel tempo, ma soprattutto che abbia le cognizioni di come i lavori vanno fatti. Ti posso assicurare che ci sono molte cliniche nell'est Europa che stanno rovinando i pazienti, mettendo in bocca denti incollati, protesi come queste a ferro di cavallo incollate sopra dei perni che escono dalle gengive. Il paziente non può pulire perché seguono poi dei profili che sono frastagliati, irregolari o peggio, concavi invece che convessi, dove il cibo si accumula, diventa tutto infetto, dopo 4-5 anni ha perduto completamente i lavori. Questo era un piccolo video informativo dovuto per salvare tante persone dalla pratica scorretta di certe cliniche dell'est Europa. Un saluto qua dalla Moldavia, da Dottor Palmas.